Si parte da lunedì con la terza dose del vaccino anti-covid anche per i quarantenni e cinquantenni che abbiano però ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi. Regione Abruzzo si conforma alle indicazioni del generale Figliuolo anticipando l'apertura over 40 e 50 che era prevista per il primo dicembre. A convincere i vertici regionali riuniti nell'unità di crisi con gli esperti verso una tempistica più veloce oltre all'impennata dei contagi nell'ultima settimana ha anche il constatato calo dell'efficienza del vaccino dopo sei mesi. Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Sempre però va a sei mesi di distanza dal secondo vaccino, certo si sta anticipando anche da parte abbiamo ricevuto le circolari del commissario Figliuolo e naturalmente anche noi ci adeguiamo alle tempistiche che vengono indicate dal commissario. E si profila anche un'ipotesi di aumento dell'uso della didattica a distanza ma per ora non generalizzata. ma sono nei casi in cui la situazione lo richieda. Naturalmente si adottano misure restrittive nei casi particolari che lo necessitano e quindi dove si supera una certa soglia bisogna andare in DAD, si va in DAD. È chiaro che la scuola diventa complicato nel momento in cui i trasporti sono al 100%, gli orari di ingresso non sono sfalsati, si tornano quindi a creare quelle abitudini, quei comportamenti, quegli assembramenti che incrementano la circolazione del contagio, tanto più tra i più piccoli che sono quelli meno irregimentabili e meno, diciamo, più difficile far rispettare certe regole di comportamento. Quindi noi lavoreremo per intensificare i controlli e gli screening. All'inizio della prossima settimana l'assessore Verin incontrerà anche il direttore dell'ufficio scolastico regionale, dottoressa Tozza, anche per mettere in campo ulteriori misure. Grazie.